La Legend of the Seas, nave da crociera lunga circa 264 metri e larga 32 metri, può ospitare fino a 2075 passeggeri sui suoi 11 ponti. L'entrata in servizio nel maggio 1995 è stata poi rinnovata nel 2000 per ritornare al suo splendore iniziale. Guardate voi stessi quanto c'è da scoprire all'interno della nave. Potrete ad esempio alloggiare in una delle suite. Da uno dei balconi, nascosti da occhi indiscreti, potrete avere una vista magnifica sul mare. Inoltre ogni cabina ha un ampio bagno con vasca e toilette. Un'alternativa più economica sono le cabine esterne, dalle quale potrete godere di una vista stupenda. Oltre ai vari programmi di intrattenimento, il relax è garantito sulla Legend of the Seas. In uno spazio separato, dedicato solo agli adulti, si può nuotare nella piscina interna ed esterna, rilassarsi nelle vasche da bagno e godersi il sole. Il tetto a vetri richiudibile vi darà l'impressione di trovarvi all'aria aperta. Prendetevi il tempo di ozziare stesi su un asdraio, godetevi la tranquillità e ascoltate il rumore delle onde. Dopo tanto relax è di nuovo tempo di scoprire nuove zone della nave. Il vostro amore per lo shopping rifiorirà nelle boutique e nei negozi a bordo, dove potrete acquistare i prodotti duty free una volta in alto mare. Lasciatevi viziare nei nostri ristoranti. Il personale di servizio del ristorante principale vi servirà comodamente al vostro tavolo ampi menu di prelibatezze da tutto il mondo. Ogni sera si aprirà il sipario sul ponte 5 e verranno messi in scena grandiosi spettacoli. Dopo la serata a teatro vi consigliamo di sorseggiare un cocktail in tutta tranquillità o di provare il casino. La fortuna sarà dalla vostra parte alle slot machine, punterete sui numeri giusti alla roulette. Su la Legend of the Seas la vostra vacanza sarà indimenticabile. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web o contattateci al nostro numero verde gratuito. Saremo felici di aiutarvi!